Cominciamo con la riete. Ultimamente siete stati in un'occasione troppo bruschi e ora inevitabilmente ne subite le conseguenze. Rimediate ad un vostro errore chiedendo scuse e magari offrendo una cena al vostro interlocutore. Toro, approfittate dell'acqua che scorre verso il vostro mulino senza doverne cercare dell'altra. Potete contare su qualcuno che lavora per voi. Godetevi poi un po' di sano relax dato che non dovrete dimostrare nulla a nessuno per questa volta. Gemelli, la speranza è sempre l'ultima a morire dice il proverbio ma se per adesso le vostre proposte non sono andate a buon fine meglio rassegnarsi. Rallegratevi se un amico vi sembra più fortunato di voi. Cancro, il weekend si preannuncia meno riposante del previsto soprattutto se il partner vi costringe a un tour de forza al centro commerciale. Meglio far buon viso a cattivo gioco e non entrare così in una spirale di litigi. Leone, vi meritate un bel 10 e lode ma non disdegnate neppure un voto inferiore. Meglio accontentarsi e non apparire degli ultra perfezionisti. Vergine, con il favore delle stelle avete una marcia in più dovendo fare qualche lavoretto in caso delle piccole riparazioni. Il kit di montaggio si rivela una bazzecola per voi. In un baleno risolverete anche le cose più complicate. Bilancia, i vostri progetti sono troppo fumosi per andare in porto e oltretutto nessuno sembra disposto a concedervi più di una preziosa chance. Sarebbe opportuno poter contare su un team molto affidato piuttosto che dover fare ogni cosa da soli. Scorpione, dovendo consegnare un lavoro, è bene non avere fretta a ricontrollare sempre ogni dettaglio. Non vorrete mica tralasciare qualche particolare importante. Sagittario, utilizzate l'intuizione laddove la teoria non arriva. I vostri ideali, più luminosi che mai, vi guidano senza farvi perdere neppure un colpo. Assicuratevi però che gli altri reggano il vostro passo. Capricorno, il vostro temperamento in genere granitico potrebbe subire qualche defiance a causa di un'imprudenza. Meglio tenere gli occhi aperti. Dovendo firmare un contratto importante occorre verificare tutto e leggere ogni nota nel dettaglio. Acquario, a parte il fatto che dovreste imparare ad essere un po' più realisti, per il resto le cose si stanno mettendo bene, professionalmente parlando. La razionalità a volte prevale sulle emozioni. Pesci. Un breve viaggio potrebbe essere l'occasione per unire l'utile al dilettevole. Oggi viaggiate tra l'altro con il vento in poppa. Rifiutare un incarico sarebbe davvero poco avveduto, soprattutto se avete bisogno di liquidità.